Sì, ma che palle, ma chi è che suona la porta a quest'ora? Ah, andiamo a vedere, va. Sì, che palle, arrivo! Allora, amico, va, ok. Arrivato, pacco misterioso. Apriamo il pacco, il misterioso pacco da Amazon. Anzi, se vuoi vedere il contenuto, guarda prima tutto il video. Hola a todos, grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie ragazzi, grazie. Guardate il video fino alla fine se volete vedere lo spacchettamento del pacco misterioso che è arrivato da Amazon. E ora inizio la festa, ragazzi. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. Grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti, davvero, grazie mille per i cento iscritti. è tutto per l'ombre ragazzi sei già per cento ti fanno dire il prossimo obiettivo che sarà a mille cosa si fa? incendiamo la casa la scuola toto e ritorno toto levanta attenzione e torno cala ombre toto e ritorno toto e ritorno toto e ritorno toto e ritorno C'è una cosa che non mi piace. Dai, apriamo sto pacco. Amore! Dimmi. Ce ne hanno mandato un altro. Ce ne hanno mandato un altro. Cosa faccio? Chiedo un rimborso. Certo che cosa serve il lettino? Basta una scatola.